Probabilmente quello che all'inizio avevamo pagato adesso lo stiamo trovando. La squadra secondo me in salute sta facendo bene, gli attaccanti stanno lavorando molto bene quindi non si riesce a fare risultato. Infatti proprio gli attaccanti meritano adesso finalmente una battuta. Quanto è stato importante soprattutto poi da ex attaccante, il primo gol di Pazzi stava giocando bene, assist importanti però per un giocatore come lui era importante anche trovare questo sblocco psicologico può servire tanto. Ma noi sapevamo che Cristian e lo stesso Enrico Bartolini e anche gli altri attaccanti hanno qualità per poter fare gol. Io dico che purtroppo inizialmente ci è mancato ma questa è solo una questione di tempo perché quando uno sa fare gol riesce a farlo sempre quindi è solo una questione di tempo, una questione di sfortuna, di episodi che non sono stati fortunati e quindi adesso sinceramente bisogna continuare a lavorare in questa maniera, con questa determinazione, con questa voglia senza mollare assolutamente niente. Qualche settimana fa ha parlato ai nostri microfoni di una difficoltà della squadra ad entrare nella mentalità della categoria, c'era una gamba diversa, un passo diverso anche sotto questo punto di vista ci siamo? Secondo me sì, è un po' che lo dico, la differenza proprio notevole che c'è fra l'interagionale e la Cina, questione di gamba, di intensità sia di allenamento ma anche di partita quindi ci voleva e ci vuole un pochettino di tempo per poter entrare in questo ordine di idee però insomma mi sembra che la squadra ci sia, ci è entrata quindi dobbiamo continuare in questa maniera senza proprio mollare assolutamente niente. Il Fano ha due veterani soprattutto, uno è Marchetti, l'altro è Fenucci, adesso tornerà a disposizione Marchetti, mancherà Fenucci, chiaramente una perdita importante per la difesa però torna Marchetti in un centrocampo che ha fatto benissimo, ha portato a casa 6 punti, una buona difficoltà per lei, diciamo così. Marchetti è un giocatore che sicuramente ci serve, ci potrà dare un grosso aiuto e quindi quando tornerà a disposizione già la domenica sarà importante per noi. Il discorso di Giovanni che manca è un giocatore importante soprattutto per l'inizio del gioco, per la qualità che ti dà nell'inizio del gioco e quindi qualche difficoltà ce l'avremo però insomma ci sono altri ragazzi che hanno fatto bene e quindi bisogna avere grande fiducia a tutti. Le chiedo un'ultima battuta mister, è giusto parlare della squadra però se vogliamo spendere una battuta per un singolo, visto che abbiamo parlato di passi che si è sbloccato, la prova di Barateri impiegato ieri in diversi ruoli, un giocatore che la categoria non la conosceva, uno dei migliori anche sotto il punto di vista dell'intensità della dedizione. Ma guarda io mi sembra che sono stato anche attaccato per il discorso Barateri, è un giocatore che non conoscevo, che non avevo mai visto giocare, l'ho visto giocare quest'anno, a me piace, è un giocatore che secondo me ha grande personalità, ha grande qualità, è un giocatore d'utile che riesce a fare più ruoli e quindi qui si smuola la porta aperta, nel senso che io sono uno che ci crede nelle sue qualità, ma non solo le sue, le qualità di tutti gli altri ragazzi, però in particolare è un ragazzo che merita un pochettino di elogi perché mi sa che era stato screditato un pochettino da tutti, quindi sono contento per questo.